bentornati amici e bentrovati di nuovo assieme sul canale del predone torniamo con l'ennesimo episodio di Elden Ring oh allora amici avevamo detto che ci stavamo un po imparando allora abbiamo ulteriormente potenziato il nostro pg vediamo se siamo in grado di andare ad affrontare il gigante ho fatto il bastione come rutta piano questi pulmini non fanno lì questo è più forte di me io mi li devo fare ogni incontro mi li devo fare tutti sono malato per questo scusate non vi arrabbiate non ci rimanete male ma a me mi piace proprio sventrarli è proprio una cosa che mi appassiona è proprio una cosa che mi appassiona poi sventro prima questo sai perché perché questa arriva prima di lui incredibile ma vero ho visto che v'ho detto che v'ho detto a quanto cammini è a cammini è una cifra il tipo è mi dispiace amici questo è Umberto schietto con qualche runetta non è mai male andiamo a sventra mille l'ennesimo anche a te altre belle runette oh guarda là un altro deschietto andiamo a prendere quest'altra runetta anche qua ottimo scendi no che c'è il coraggio scendi scendi da là sono tutti buoni dall'arto bellacchione sei proprio un bellacchione fattelo dire eh ti è piaciuta fatto zaga zaga duca cosa andiamo a fare quest'altro quest'altro puzzone diabolico vieni qua puzzone diabolico tutto l'ho detto tre mila volte te lo dico sempre che devi sta buono perché se non stai buono poi dopo so problemi e se so problemi poi e dopo si so problemi poi tutta rabbi perché dici de qua dici de là ma c'è stato il cavaliere d'oro oh nascostissimo altro che nignas altro che i nignas ragazzi altro che i nignas ma siamo più forti noi dei nignas eh sa troppo però sai che è forse è una zaccagnata ai spalle anche se gira presto già la possiamo riuscire a guidare andiamo ad ar gigante come al solito si sa perché mi è scomparso il cavallo e non ho manco premuto forse antistrani eh mentre questo mi diverto troppo perché quando lo lanci con la pedata lo butti proprio in mezzo a muori muori grazie per le gemme lei è molto umano se lo faccia dire io devo riuscire ad aggrarmi uno di quei ripistrelloni ragazzi perché come ho detto voglio vedere quanto sono difficili papà sei caduto sei caduto e io vorrei aggrarmi uno di questi qua per capire un attimino quanto è difficile un agri aggrado aggrado ah non so difficilissimi però rune aule ah danno anche delle bottine rune aule potrebbe essere un motivo per sventrarli come se non ci fosse un domani allora io pensavo che erano particolarmente difficili invece sono facilissimi da fare li possiamo fare anche a tre anche a gruppi di tre amici li possiamo fare e li sventraremo a gruppi di tre un teschietto un teschietto tra l'alla e noi sbrigiamo se andiamo a menare e il gigante gigantone perché quello è veramente un grande è brillante Corri, corri Lo scordo sempre di sto pistone che mi dà con la voce Per forza tocca usare la tecnica del piallo in giro Un giro qua mi trovo una palanca in faccia perché tanto è così lo so già Per forza lì la famosissima tecnica del marsupiale avvelenato questa ragazzi non la conoscete ora ve la presento io questa non me l'aspettavo sta dietro di me ho visto l'ombra che fortuna che abbiamo il nostro bel cavallino ahhh 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 Sì Mi è rimasta poca Pure a me mi è rimasta poca Aiuto, aiutatevi Aiuto Ce l'abbiamo fatta Incredibile ma vero abbiamo abbattuto The first giant in the game How is home Dovrebbe comparire la scritta solo per me Amazing Mamma mia ragazzi Che sudata Ottieni materiali che cos'è Un frutto di raw Che spettacolo amici E come si sale qua Solo dall'alto Solo dall'alto Ti ci devi praticamente Iettare dentro Ti ci devi fondamentalmente Iettare dentro Ma che animale sei? Tutto è schietto Altro Ragazzi ma mi dite che cosa significa Quel simbolo sulla sinistra dello schermo Quella specie di porta con dentro le scritte Di portone con Me lo dite per cortesia Perché io Ripeto Non essendo esperto Magari Tante cose non le so Che cosa non le so ma che bell'isola qua c'è un po' se troviamo sto venditore che ci dà qualcosa di buono buon uomo ancora tu acquista vedi che ce l'hai qualcosa che cosa sono spada lama larga questa mi piace messaggio a scigli di terra troll scavapietra randello e va a pagare amico te le fai pagare molto care le cose vedi questi sono buoni alla prossima andiamoci a mettere la nostra bella armetta va e adesso cominciamo forse probabilmente non ci mettere nemmeno la mano sul fuoco 104, 117, 109 è un po' è un po' è un po' Grazie. Allora, forse devo mettere, guarda qua, mano destra, ci metti questa, mano sinistra, mi metti questa, oh cappa. queste un po' di male lo dovremmo fare voglio ben sperare che cos'è questa un po' lì, cosa del sonno, cosa del cinghialio tutti da ardi, questo fegato è seccato in etulo possiamo prendere un brucio guarda devo vendere la spada Cicaloo questa è un motto di vendo pure perché mai lo dimenticavo di metterlo l'armatura questa è bella bella, in modo di dire bella però perlomeno c'è da più stati indifeso perché sei convinto io ti voglia rompere le scatole grazie amico mio grazie a tutti 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 si perché voi siete specializzati nel ricomparire come se niente fosse non c'è niente da prendere non c'è niente da prendere come una lingua che ti vuole menare torrente torrente guarda i tentacoloni giganti corri 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 andiamo patapom 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 vai lallo cavallo vai di qua me va troppo ammazzata me va troppo ammazzata guarda i tentacoloni giganti guarda i tentacoloni che cos'è? ho sentito il gigante che urlava che roba è quella roba attaccata sono sicuramente dei nostri oh tutto è schietto tra le cose è comparsa adesso perché prima non mi sembra di averlo visto sono uno di te che fai mi uccidi perché sono uno di te sono vedi ho la stessa armatura eh che fai attacchi uno di tuoi un dardigno un dardigno dardigno e che fai nei laccati gli escrementi dorati ragazzi ammazza stati due sfigati che ancora non si sono accorti che sono morti tutti nel campo un dardigno morto anche di ma ti pare il modo? ti pare il modo di attaccarmi? no dai è assurdo mazza che sveglia con lo scudo ho detto che ti uccidevo tu non mi credi pensi che io stia giocando ehi tu guarda laggiù quattro belle pozze sono quattro belle pozze avete rifiniti? eh si queste farfalline dove stanno stavano qua ma l'avendo sbragato me le sono anche prese me le ero dimenticheto accidenti ce n'era una qua avete visto? volevo prendere un livellino e metterlo sull'energia ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma solo io mi potevo incastrare. Vabbè questi vanno di darvi a ricerca comunque. E' un po' che imbale. Stanno venendo... Pim, pim! Pim, pim! Pim, pim! Niente, quello sta tirando i sacchi. Dai! Sto qua, mi vedi? C'hai paura, eh? Fellacchione! Ah... Pim! 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 Pem! Pim! 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 che cazzo 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 è rischio Siamo sbancati amici Vabbè ci fermiamo qua Oggi dopo due giganti amici è una grande botta per me Quindi niente amici Io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date Vi invito a seguirmi su tutti i social Per essere sempre aggiornati sui contenuti che porto E niente amici Grazie mille come al solito E ci vediamo al prossimo episodio Buona serata amici